un saluto potentissimo tfg on demand e guardate ragazzi rinnegan tfg si mi fermi ha scritto ieri sera le due di notte tipo secondo terry taylor ne vale la pena aprirlo ma io direi anche di sire ma perché no meglio che trovi il mago elettrico che cazzo ne so una scintilla si ma l'ho ancora usata ma l'hai trovata o no si che l'hai trovata tu ti ricordi che vuole la febbre ah si è vero ho trovata io è vero giusto hai ragione che ho fatto io il video e ti ho trovato la scintilla io il mago elettrico fidati è una delle carte più forti del gioco ma io lo trovo qua il mago elettrico guardalo e non ci credo non è impossibile sono sicuro è impossibile non trovi un cazzo qui e vai nel bullo di mamma lo trovi lì lì nel bullo omaggio vai speravo il boia ah è vero tu non hai sbagliato il boia perché sono appena tornato in arena 9 stessi perché l'hai tornato in arena 2 no è fortissimo ragazzi il boia una roba schifosa l'ho potenziato a livello 4 io ho chiesto c'era la domenica a vendere 8 mila euro ho chiesto esatto ho chiesto la la cosa la la domenica di domenica si chiama che sono la strega e io ho chiesto il boia ne mancavano due non è arrivato e quattro quindi ho potenziato il boia aspetta 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 chiedo 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 questo ma aspetta prima di chiedere questa è una cosa schifosa vuoi volerlo a 7 ma anche c'è a livello 7 poi vai vai capo una che non ho una che non ho no va bene se che qua trovi sempre capo che già si è almeno che insomma non è prima che trovi attenzione il draghetto infernale incredibile direi così perché si trovi una carta che non avevi sono così contento ma sono già due dimmite mi disturbo che dottor annalte 3 due eppure la principessa al 2 io non ce l'ho neanche a principessa questa zona al 2 ma che fa scusa dimenticare al 2 e avere anche il bosca e il copa vero può spuntizzare questo ma non uso più ma non sta potenziale minatore minatore hanno delle lette da re che mi piace di meno insieme al manco di ghiaccio diciamo che è utile in altri ambiti ma più che altro tu potresti quante quante torri ti manca e dai butta giù tre torri e vediamo se nel volo della corona però no vediamo se trovi il cosa sono curioso era un po che mi voglio un po che non mi piace però sta anche un po che non gioco comunque facciamo un po quando vado a casa c'è una cacca però ti dico in questa arena qua come disegnata mi piace veramente un sacco mi fa piacere se è sincero cosa fai adesso tra che tipo nale procedere quello giusto gigante guarda che il il cucciolo di drago bastardo o me lo butto giù così farà di poco che ti conviene il prima possibile anche perché vedi quello strano di stunno le truppe mi da un fastidio mi da mi infastidisce tantissimo anche quello è ma da non provare che la tua la sua torre gli stai facendo malissima torna giusto scusami guarda lì che è bruttissimo metti il mini pecca per uscire aspetta 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 perché i barbari i barbari è proprio il fatto da una donna pare che si è a lungo si sono andato amore muore muore ma voglio attaccare adesso a colmini pecca usate la zap usata esatto esatto dagli dagli fam dai mini pecca dagli brutto stupido fastidio io faccio così aspetta è attento però coli con il sasso lo so lo so lo so la butta giù col sasso ma lui da sempre punta al la torre ma che culo lui ha il magen elettriche nel magen normalen è quel problema perché il mago elettrico ti azzerra lo stronzo ti azzerra lo stronzo capito guarda caso perfetto lui no va bene va bene ho visto che comunque fatica a fermare il gigante perché ha tutte danni a zona ok il banco fa danno è il mago poli però che muore ok facendo nota di vita ancora un atto con una palla di poco e quattro rileva giù ti guarda l'altro lato sono un giocatore a tutti giocati pesca da un po se non riesci due colpi per voi se non lo so vedeva che pare va bene a fare parli e davanti a fare parli scelti cosa fai perché così non basta mazzata attacco dal lato opposto ma sia così scusa lui ammetteva comunque Troupe per difendere la torre Che era insalvabile quella torre E tu all'attaccavi lì Lì non potete trovare l'altro posto Hai ragione Dai muori Attento Mettimi i persi Non mi prendo però Odito Merda Stavo giocando bene Metti il gigante al centro Stavo giocando bene Stavo giocando bene Ma tanto non hai perso Tutti li hai uccisi Ottimo Draghetto infernale Doppio draghetto infernale Attenzione Mi dà fastidio Stavo qui della merda No loro Non mi frega più Oh bastardo Qua roba lì Quanto sono forti Metti il gigante al centro Via via Ma muori Due principesse Ragazzi zap Perfetto bravo Rinegan Bella giocata Bella giocata Bella giocata Rinegan vince Boom Perfetto Due corone Te ne manca una Posso farla io Posso giocare io Sì va bene Però sai cosa Ultimamente tenevo sempre i barbari Per difendermi dai barbari scelti No è pur di questo Stavo sincero Era un bel po' Che non trovo i barbari scelti Eh invece Ti dico che sono in tanti Mi ricordo che era uscito Tipo poco tempo fa Un aggiornamento Che diceva Che avrebbero ridotto I barbari scelti E la scossa Eh addio barbari scelti Eh sto cazzo Potentissimi ragazzi Barbari scelti Con sto cazzo Che addio Aspettiamo così E dietro Abbiamo un bel danno a zona Quelli Ottimo Uccidiamo la merda No ma che sfiga L'attore inferno Proprio Eh non posso neanche adattarla E il primo attiratore Il tronco Abbiamo ucciso La principessa La princess A suo livello 6 Cazzo è forte Quell'attore inferno Di merda No ma bravo Ti trovate a livello 8 Una volta L'ho trovata a livello 8 Una roba schifosa Aspetta Aspetta cosa Aspetta Mini pecca dietro Alto torrent del re Perché Perché così Vediamo cosa fa Che palle ho Guarda che non attacca Metti mini pecca Palla di fuoco Sulla strega Bam Perfetto Adesso Basterebbe una zappa Sì Ok perfetto No Ma non dovrebbero farti tantissimo malissimo Dio Non dovrebbero fare tanto male Zap Tutto quello che avevo Oh basta Però è incredibile Tutti chiusano sta roba La sagra della varietà La sagra della varietà La sagra della varietà No effettivamente Dovrebbero depotenziarli Perché sono troppo Troppo forti Cioè Ti uccidono una torre Fanno 600 700 di danno In due Al colpo Cioè Una cosa schifosa Dai Poi adesso Adesso la torre inferno Che mi ferma il gigante Cazzo faccio Eh tu metti il tuo Draghetto La torre inferno volante Metti Aspetta un attimo No Perché no Lo usi per la strega Eh capite Quello come lo fermo Col mini pecca Col mini pecca Si è capito Ma c'è il gigante davanti Ora che spara il gigante Metti il mini pecca Via No cazzo Tu devi zapparti Ok Perfetto Dai Ottimo Parla di fuoco Parla di fuoco Sulla strega Che adesso muore male Ok adesso Il draghetto Deve girarsi a uccidermi Quei disgarri Ok vai 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 Perfetto Ottimo Ottimo E' un altro gigante E' via Subito così Attaccare 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 Come no Ma che sfiga è Basta Porca troia Che sfiga Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mori Ottimo Perfetto E' un ammattatore andato Non Esatto E' un cucciolo di drago E' un cucciolo di drago Alla fine Adesso metti qui Di strancio Dai Dai Perfetto Si si Zappa Stronzo Stronzo Ecco la città è un gigante Via Adesso mette la principessa Adesso lui non ha più Adesso ha l'altro inferno Però giusto Si boom Vanno i barbari Vanno i barbari Non ficca vanno Zappa 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 Ok perfetto Dai Colpissimi Dai principessa Colpisci con la roba Lata Attacchiamo di qua veloce Anche Via Doppla Chi si difendi di là Stronzo Non difendi di là Si difendi di là Ah si Dai 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 Mini pecca Dai dai mini pecca dai Distrugge quella cosa lì Dai palla di fuoco Palla di fuoco Ottimo E giù la torre No Si si Ok mamma mia Visto che giocata Quando tu costringi a difendere più da lato Vado tu di subito Ah la persona ha fatto lo scopo Sfegato Come sono i barbari scelti Battibili Mi dicono Merda Quindi perfetto Raga Siamo su Apri tu E vediamo Leggendaria Di trovare il boia Dai Oro No la boia non la trovo Gemma Goblin Dai 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 Il boia No Goblin c'è il botaniere No E' questo coglione E' forte Si vede che è l'oso Tanto Uno Livello Livello due Quindi ragazzi Se vi piace Sceglie tanti ai miei piazzi Mi raccomando Ah aspetta Ditti una cosa prima Quando tu Prenderai il boia Ti consiglio di utilizzarlo Con dove cazzo sta Cosa Il boia Sì Non c'è la boia io Secondo me Visto che tu hai Questo Io vorrei provare Oppure No ma effettivamente è così Con questo Non l'ho mai provato ragazzi Il boia puboscaiolo Così il boia No scusa Questo muore Il boia fa Frum 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 E' tutto Bellissimo Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Ciao 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 Ciao